Road to the Lemon Grove è un film molto molto divertente e è un film che mi è subito piaciuto perché non soltanto perché raccontava una storia tipicamente italiana di tanti immigrati che tempo fa partirono alla ricerca di un futuro migliore no miracle hold on a secchiere signorina she she makes miracles like what like all kinds of miracles you know she gets rid of headaches yeah like leprosy she even raises the dead raise the dead yeah the dead you know when that kind of dead you know what I'm talking about she doesn't look